Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di Ghost of Tsushima illustrandovi a grandi linee tutto quello che il titolo ha da offrire. Se seguite il canale da tempo, come sapete, spesso lo faccio con alcuni titoli. E vi voglio illustrare tutto ciò che Ghost of Tsushima ha e che offre ai giocatori. Che tipo di gioco è? Quali sono gli sbloccabili? In cosa consiste il gioco? Insomma, non è una vera e propria recensione tradizionale, ma è più un rispolveriamo il titolo dopo averlo completato al 100% per vedere effettivamente quello che ha da offrire. Ovviamente in questo video non ci sono spoiler riguardanti eventuali boss, trama e quant'altro. Vi illustro bene o male le meccaniche e i contenuti che offre. Allora, Ghost of Tsushima è un gioco, diciamo un po' misto, perché è un gioco d'avventura, è a volte stilt, è a volte action. Io lo paragonerei ad una sorta di Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale, anche se il gioco, diciamo, è ambientato nell'isola di Tsushima, però durante l'epoca del Giappone feudale. Quindi è quell'Assassin's Creed giapponese che abbiamo sempre voluto e che Ubisoft non ci ha mai dato fino ad ora. Quindi come meccaniche di gioco è molto Assassin's Creed, quindi non è un Souls-like, non è un Sekiro per intenderci. Allora, l'ambientazione è questa, l'isola di Tsushima, suddivisa in tre parti. Abbiamo Izuara, Toyotama e Kamiagata. Ogni parte è abbastanza generosa in termini di dimensioni da esplorare. Come vedete è molto grande. Ovviamente più si va avanti nel gioco e meno è la dimensione dell'isola. Infatti nella parte alta, come vedete, è molto piccola da esplorare rispetto a quella iniziale, ma comunque è molto generosa nel complesso. È una mappa abbastanza grande al punto che vi perderete a fare tutte le varie attività. nella mappa ci sono diversi punti di riferimento. Abbiamo ad esempio i villaggi dove fare acquisti con la valuta locale che si suddivide in, diciamo, fiori, in risorse e quant'altro, e dove è possibile accettare nuovi incarichi, diciamo, secondari. Poi abbiamo gli accampamenti dei Mongoli che vanno liberati, abbiamo dei campi profughi, sempre dove fare acquisti e accettare missioni secondarie, vari punti di interesse per potenziare l'armatura, per potenziare le varie abilità e caratteristiche di Jin, che è il protagonista, e così via dicendo. Insomma, ci sono diversi punti di riferimento da prendere in considerazione nel corso dell'esplorazione. Le missioni che vengono chiamate racconti si suddividono in tre parti. Abbiamo il viaggio di Jin, che sono le missioni principali, i racconti di Tsushima, che sono le missioni secondarie, e poi abbiamo i racconti mitici che sono quei racconti che permettono di ottenere ricompense di vario tipo, tra cui nuovi equipaggiamenti, nuove armature, nuove armi, nuove abilità, e così via dicendo. Se andate, ad esempio, sul racconto, vi dice che cosa vi offre in questo caso. Vi offre un incremento della leggenda massimo, l'armatura del clan Sakai, la maschera del clan Sakai, e così via dicendo. In armature abbiamo le spade, o meglio, la katana e il coltello, quindi abbiamo la lama corta e la classica katana, che sono le uniche due armi da mischia presenti nel titolo. Non potete avere altre armi all'infuori di queste due, però possono essere personalizzate. Infatti, se andate sull'arma, avete la possibilità di scegliere una delle tante skin che sbloccate nel corso del gioco e che non aggiungono niente in termini di potenziamenti, di diversificazione delle abilità, eccetera. Insomma, è solo una questione puramente estetica. Stessa cosa per la lama corta. Invece, giù abbiamo gli amuleti che possono essere equipaggiati sulle armi per avere agevolazioni di vario tipo. Ci sono tantissimi amuleti, come potete vedere nel corso del gioco, ne otterrete tantissimi, e ogni amuleto fa qualcosa. C'è quello che dona più attacco, più forza in attacco, più difesa, più stilt, e così via dicendo. Potete inizialmente equipaggiare un solo amuleto una volta ottenuto lo slot e i restanti dovranno essere sbloccati gradualmente sia per quanto riguarda gli amuleti che gli slot. Poi abbiamo il completo che si suddivide in tre parti, dove le prime due sono solo estetiche, quindi avete la possibilità di acquistare e sbloccare diversi capi d'abbigliamento puramente estetici per quanto riguarda la testa e il viso, quindi maschera, bandana e quant'altro. E poi avete la possibilità di ottenere un vestito che conferisce a jean abilità particolari e che può essere personalizzato in colorazioni. A differenza del sopra capo, praticamente del cappello per intenderci, o della bandana e della maschera e del bandito brutale o di nevi di kamiagata, insomma questa sorta di di fular, può essere potenziato. Quindi l'equipaggiamento giù, l'armatura, quest'ultima parte, può essere potenziata e conferisce abilità diverse a seconda dell'armatura. Come vedete abbiamo un maggiore aumento della salute, riduzione dei danni, maggiore stilt e bonus di vario tipo. Quindi se questi due sono puramente estetici, questo è importante, perché in base alla situazione dovete assumere un vestito diverso. Magari se volete agire come stilt, se volete avere più forza nei combattimenti e così via dicendo. Ogni vestito o armatura può essere potenziato e personalizzato tramite l'armaiolo, quindi con la valuta raccolta avete la possibilità di ottenere questi equipaggiamenti esclusivi che possono essere potenziati e personalizzati a livello estetico. Ma, ripeto, conferiscono, diciamo, bonus differenti. Poi abbiamo armi e munizioni. C'è l'arco a distanza, quindi l'arco corto, l'arco lungo, la cerbottana e il lancio. L'arco corto, vabbè, il classico arco base con il quale, diciamo, eliminare i nemici con lo stilt da una distanza breve. Poi abbiamo l'arco lungo che permette di coprire più distanza, di avere più danni, eccetera, eccetera. Poi abbiamo la cerbottana che può essere, diciamo, utilizzata per eliminare i nemici in modalità stilt e il lancio che comprende diversi oggetti, tra cui bombe, campanellini, pedardi, eccetera. L'arco corto e l'arco lungo possono essere potenziati e personalizzati in estetica, mentre la cerbottana e il lancio no. Avete la possibilità di equipaggiare, diciamo, sia l'arco lungo, ad esempio, che un oggetto rapido come la bomba adesiva, l'olio incendiario, la bomba fumogena e il kunai. Quindi avete sia, diciamo, la katana che il coltello, l'arco o la cerbottana o un oggetto da lancio e poi avete questi gadget. Insomma, tutto il completo che rende Jin un ninja più che un samurai. In accessori, invece, vi sono le, diciamo, personalizzazioni per il vostro cavallo, che non conferiscono particolari bonus, ma sono pressoché, diciamo, estetiche, e poi avete, diciamo, quattro melodie da sbloccare per il flauto che consentono di cambiare il clima del gioco. Davvero interessante, una caratteristica originale. In tecniche, invece, vi sono molte tecniche da sbloccare, quindi trascorrerete davvero tanto tempo a sbloccarle tutte, e le tecniche si dividono in samurai forme spettro. In samurai avete, diciamo, deviazione schivata con le varie abilità, mito, che sono quattro abilità da sbloccare con apposite missioni, e poi abbiamo il potenziamento per il vento. Il vento in Ghost of Tsushima permette di orientarsi. Non avete una mappa, un mini radar, e cose di questo tipo, ma dovete orientarvi con il vento. E potenziando il vento avete la possibilità, ad esempio, di raggiungere le sorgenti, le tane delle volpi, e così via dicendo. Quindi potenziando il vento risulterà molto più facile trovare i collezionabili, potenziamenti, e quanto altro. Poi abbiamo forme, che come visto in Nioh, ci sono quattro forme, e ogni forma ha le sue tecniche di combattimento, o abilità, che dir si voglia. Quindi a seconda del nemico dovete assumere una forma diversa. Ad esempio, se vi imbattete in un nemico più robusto, allora dovete usare una forma. Se vi imbattete in un nemico spadaccino, dovete usare un'altra forma, e così via dicendo. Le forme possono essere cambiate da un momento all'altro, in qualsiasi momento tramite la pressione degli appositi tasti, e ogni forma ha le sue abilità. Infine abbiamo spettro, che sono ulteriori abilità pensate per coloro che agiscono per lo più con lo stilt. Quindi se volete muovervi silenziosamente, uccidere i nemici dall'alto, uccidere i nemici con l'arco, con abilità particolari, ascoltare i nemici dalla distanza, e così via dicendo. Quindi, il primo gruppo di abilità è riservato a coloro che combattono normalmente. Il secondo gruppo ha coloro che combattono normalmente, ma che, diciamo, hanno bisogno di passare da una modalità all'altra a seconda del nemico. Lo spettro, invece, è quella categoria di abilità riservate agli appassionati di stilt. Infine abbiamo la presenza di una quantità industriale di collezionabili. Vi sono le sorgenti, i pilastri, i santuari, gli spezza bambù, i duelli, i fari, e così via dicendo, per quanto riguarda l'esplorazione. I manufatti vi sono i manufatti dei mongoli, i vessilli, le testimonianze, eccetera. E poi, a bene, ci sono, alla fine, diciamo, i materiali che dovete raccogliere per poter potenziarvi, migliorarvi, personalizzarvi presso i venditori. Questo, per quanto riguarda tutto quello che il titolo ha da offrire in termini di contenuti. Si parte da un rango base e si livella eliminando i nemici. Ghost of Tsushima è questo, praticamente è un, come vi ho anticipato, un Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale, anche se la località scelta è l'isola di Tsushima. Come vedete, il mondo è molto aperto, davvero bellissimo, cioè ha degli scenari fantastici al punto che trascorrerete il più delle volte il tempo ad ammirarli. Potete andare in giro a piedi oppure richiamare all'attenzione il vostro fidato destriero che non può assolutamente morire, a differenza di altri giochi. Non instaurerete alcun legame con il vostro destriero, potrete richiamarlo in qualsiasi momento e verrà all'istante, comparirà dal nulla e vi permetterà di spostarvi nella grande mappa. Esplorando gli scenari vi imbatterete in varie attività secondarie, missioni principali e alternative, o secondarie per meglio dire, nemici da eliminare, accampamenti da liberare, insomma c'è davvero tanto, tanto, tanto da fare. Ci sono tantissime ore di divertimento, di coinvolgimento, che vi porteranno, diciamo, a esplorare Tsushima dall'inizio alla fine per intere giornate, se non addirittura settimane. Io l'ho completato tutto al 100%, ho praticamente sbloccato di tutto e vi posso assicurare che è un autentico capolavoro e per certi versi richiama anche Tenchu, se lo conoscete. Infatti potete eseguire uccisioni alla Tenchu, entrare nelle abitazioni in modalità stilt, aprire e chiudere le porte delle abitazioni o romperle. Insomma, il titolo richiama diversi generi da Tenchu a Assassin's Creed e anche un po' Sekiro perché ad avventura inoltrata sbloccherete il rampino che adesso non posso utilizzare per raggiungere, diciamo, distanze molto alte. Ovviamente una volta che avete completato l'avventura, diciamo, i nemici saranno molto meno rispetto a quelli che incontrate a inizio gioco. Quindi vi capiterà magari raramente di imbattervi in un gruppo di nemici mentre esplorate i dintorni e i nemici possono essere affrontati in due modi. Ora, se ne incontro qualcuno ve lo mostro. C'è la modalità samurai classica dove avete la possibilità di sfidare i nemici in una sorta di uno contro uno, oppure dare il via ad un vero e proprio massacro. Quindi una sorta di combattimento alla Royal Rumble. Ecco, questi sono i nemici, adesso ve li mostro. Quindi una volta che vi avvicinate ad un gruppo di nemici potete attivare il confronto. Il confronto avviene come in un film di samurai, quindi dovete tenere premuto il triangolo e rilasciarlo con il giusto tempismo per eliminare i nemici. I nemici fanno anche delle finte, come avete visto, quindi, diciamo, dovete avere il giusto tempismo. Potete passare da una forma all'altra in qualsiasi momento, oppure attivare abilità extra che possono essere utilizzate in qualsiasi momento. Come ci si cura in Ghost of Tsushima? In Ghost of Tsushima ci si cura con dell'energia che non può essere acquistata o trovata in giro. Praticamente eseguendo uccisioni in modalità stilt o uccisioni senza subire danni ci si cura. Adesso vi mostro il combattimento tradizionale e le varie forme. Quindi sostanzialmente questo è tutto quello che Ghost of Tsushima ha da offrire, un capolavoro di infinita bellezza. Sinceramente io mi sono divertito tantissimi giorni in sua compagnia, mi sono dilettato ad esplorare tutta Tsushima in cerca dei collezionabili, sbloccando tutte le abilità, potenziamenti e quant'altro. Come vi ho detto prima, a seconda della vostra forma, della vostra impugnatura dell'arma, potete infliggere più o meno danni. Ovviamente sono presenti diversi livelli di difficoltà che variano dal facile al normale al difficile, anche se in questo ultimo periodo è stato reso disponibile un aggiornamento che permette di incrementare ulteriormente la difficoltà per coloro che magari vogliono un livello di sfida superiore. Se siete interessati all'acquisto di questo capolavoro che è disponibile in esclusiva, ripeto, in esclusiva PlayStation 4, lo trovate su Amazon. Vi riporto come sempre il link in descrizione per acquistare Ghost of Tsushima.